Ieri ho parlato dell'importanza che i giovani trovano i testimoni credibili di Gesù nella Chiesa per essere loro stessi i testimoni credibili di Gesù per gli altri giovani e per tutto il mondo e per questo è molto molto importante che abbiamo una formazione veramente pastorale per tutti i ministeri della Chiesa, laici e ancora sacerdoti per aiutarti ad essere quelli testimoni per aiutare i giovani ad essere i discipoli missionari in questo mondo oggi sì, una formazione della Chiesa per aiutare i sacerdoti, i laici per essere veramente secondo il cuore di Gesù cosa i giovani non volano, la gente che non sono i testimoni credibili abbiamo bisogno di persone che riflettono Gesù nella loro vita allora per questo non è ottimatico, abbiamo bisogno di belle formazioni tutti insieme come Chiesa i seminaristi e anche i laici tutti insieme grazie a tutti 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 grazie a tutti